È esposta da una settimana davanti l'ingresso di Palazzo Barbieri, municipio del comune di Verona, l'icona più importante delle comunicazioni del terzo millennio, l'antenna realizzata da Guglielmo Marconi, presente sul panfilo Elettra, dalla quale partirono i primi segnali attraverso onde elettromagnetiche, rivoluzionando il mondo della comunicazione e la storia dell'umanità per come la conosciamo oggi. È l'antenna dalla quale Guglielmo Marconi, sul panfilo Elettra, ha connesso il globo, ha reso possibile l'ipertecnologia attuale, l'attuale connessione, semplicemente il postare una foto su Facebook lo dobbiamo all'antenna Elettra 1931. Il Museo della Radio di Verona, proprietario dell'antenna dal 2015, aveva ricevuto un bellissimo video in cui la figlia di Guglielmo Marconi, chiamata proprio Elettra, ringraziava per l'interessamento per ricordare le grandi imprese del padre. Quindi io ringrazio moltissimo la famiglia del maresciallo Alberto Chiantera, che lui è sempre stato molto appassionato di mio padre e amato molto anche Verona. L'antenna l'abbiamo subito portata alla principessa per farla riconoscere, lei l'ha riconosciuta, avevamo anche il libretto di bordo del panfilo Elettra, avevamo tutto e la principessa è rimasta inebriata dalla cosa anche perché ci giocava da bimba all'interno dell'antenna, noi abbiamo le foto quando era sul panfilo con la mamma e col papà che giocava, è orgogliosa che Verona abbia questo patrimonio per tutti. Un migliaio circa è visitatori dal 20 dicembre scorso, primo giorno di esposizione. Qui rimarrà fino a fine gennaio, grazie alla collaborazione del Comune di Verona, sarà possibile accedere grazie ad un QR code per ammirare da vicino un pezzo storico di grande portata. La comunicazione a distanza si è rivelata negli ultimi due anni fondamentale per mantenere le nostre relazioni, sia dal punto di vista affettivo, sia dal punto di vista lavorativo. Tra l'altro Guglielmo Marconi, come potete leggere, ha avuto il brevetto in Inghilterra perché anche lui, come tanti giovani di oggi, era una mente, un personaggio in fuga, ha dovuto andare in un altro paese per vedersi riconoscere proprio il genio che poi tutti oggi riconosciamo. Quindi ha proprio avuto una doppia funzione, quella di metterci in relazione, cosa fondamentale proprio nella natura umana, ma anche quella di ricordarci quanto bravi, quanto intelligenti e forse a volte poco apprezzate sono le nostre persone.